Allora, buongiorno a tutti. Io provo a ripresentarmi per l'ennesima volta, spero che ormai mi conosciate, ma se così non fosse mi ripresento. Sono Marco Pagano, sono un operatore del progetto Grugliasco Giovani, quindi del comune di Grugliasco e mi occupo di politiche giovanili. Nel vostro caso, diciamo che mi occupo insieme alla vostra scuola di proporre dei laboratori ludico-didattici all'interno delle classi. Nello specifico, quest'anno vi propongo, anche l'anno scorso, il progetto Comunitazione, un progetto che porta gli studenti a individuare problemi relativi al proprio ambiente scolastico e ambiente cittadino e propone loro di prendersi carico di questi problemi provando a trovare delle soluzioni innovative, creative, attraverso il loro punto di vista e realizzarle in concreto senza delegare la risoluzione ad altri. Uno dei percorsi che abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi due anni, uno dei percorsi, ma anche degli ambiti in cui gli studenti si sono concentrati, è quello dell'ambiente. L'ambiente è inteso come poco rispetto da parte dei cittadini dell'ambiente circostante, poca sensibilità in generale all'impatto delle proprie azioni sul clima, sulla natura, più in generale comunque poco rispetto per l'ambiente. L'ambiente si può declinare come ambiente fisico, i mari, i fiumi, l'aria, vi aggiungerei anche per aprire questa nostra riflessione come ambiente relazionale. Quindi avere rispetto per l'ambiente vuol dire sì, avere a cuore che nessuno butti le cartacce per terra e dall'altra parte anche curarsi delle buone relazioni nei confronti di chi c'è vicino e lontano. Allora, io ho preparato questo percorso di video riflessioni, non di video lezioni, di video riflessioni insieme a voi sul tema educazione ambientale. So che voi siete già molto attenti e forse parte di questi contenuti che vi proporrò risulteranno essere cose già sapute, cose già trattate con i vostri professori, ma in qualche modo le rimetto sul tavolo della discussione, magari troveremo altri spunti, altrimenti faremo soltanto un ripasso insieme. Educazione ambientale che come voi sapete è diventato anche oggetto degli spunti ministeriali su cui tutte le scuole devono lavorare. Allora, vi anticipo quelle che saranno gli ambiti delle nostre video riflessioni. L'argomento ambiente da comunicazione, quello che vi stavo dicendo, la questione ambientale, facciamo qualche considerazione insieme soltanto per chiarire alcuni aspetti. Poi vi proporrò alcuni spunti sulle buone ambitudini per rispettare l'ambiente, sulla raccolta differenziata, gli effetti dell'inquinamento, le eco-mafie e che cosa possiamo fare noi nel concreto andando a riprendere il buono e ottimo progetto che i vostri colleghi partecipanti al progetto avevano costruito, qualcosa che si può sicuramente riprendere e riproporre dopo la crisi che stiamo vivendo. E forse riusciremo anche ad intrecciare alcune considerazioni che, ahimè, stando tutti a casa e non al lavoro, possiamo fare sull'ambiente. Proviamo poi a rifletterci insieme. Vi anticipo che queste video riflessioni di oggi, a differenza di altre, vengono affidate a una parte di parlato mio, ma molto meno rispetto al passato, vi proporrò dei piccoli video, anzi per dire la verità alcuni sono un po' più lunghi, altri un po' più brevi, così diversifichiamo le voci e non ci annoiamo troppo. Detto ciò, vi ringrazio e ci vediamo nella prossima video riflessione e proviamo a cominciare il nostro percorso. Grazie.